800 ragazzi del liceo artistico Piero della Francesca in prima linea nella lotta contro ogni esclusione. Gli studenti hanno realizzato alcuni video con i loro cellulari per affrontare i temi del razzismo, dell'omofobia e della parità di genere. I nostri studenti già sono un passo avanti rispetto agli adulti su questo fronte, perché sono a volte più tolleranti anche di noi adulti. Comunque è un fronte sul quale non occorre e non bisogna abbassare la guardia. I fatti di cronaca che sentiamo tutti i giorni alla televisione ce ne danno conferma. Nelle aule c'è questa discriminazione tra bullismo omofobico e anche razzismo in sé per sé e quindi ci preme rendere migliore la nostra scuola e rendere migliore la nostra vita, visto che la maggior parte della nostra vita la passiamo dentro le classi. La discriminazione comunque non è un tema lontano, è dentro di noi, dentro le nostre scuole, dentro le nostre classi e spesso viene ignorata. Quindi con questi corti si spera di sensibilizzare chiunque a capire e a non tollerare questo tipo di atteggiamento.